L'abbiamo voluta ripetere anche qui a Salonno, è la prima volta che la facciamo. Proponiamo di gnocchetti salvi con ragù alla campidanese, poi del ravioli della parte dell'oliastra che c'è dentro, patate, formaggio pecorino, olio extravergine e dell'aglio. È un formaggio particolare che si compra solo nell'oliastra, così tutto ciò viene, con delle patate viene proposto. Poi facciamo la pasta, ecco qua, questa è la pasta, proprio in semola, ben lavorata, e poi si chiude, vedete qua fuori, questa è la pasta. Ecco, questa è la pulicione, sì.